Il fatto di Marcotti con gli scenari economici e politici in generale naturalmente a partire da quello che accade sulle borse sui mercati finanziari però inserendo sempre i fatti più importanti quelli che analizziamo ogni giorno io saluto lui Giancarlo Marcotti che sarà con me per questa parte della nostra trasmissione Giancarlo ben trovato grazie Emanuela un saluto a te e a tutti gli ascoltatori mi è venuto da sorridere poco fa Giancarlo sai perché perché tu hai iniziato insomma a intervenire sulle fonti tv con me in questo spazio proprio all'inizio del covid no della paura del covid e ricordo benissimo che la prima puntata del fatto di Marcotti è stata un approfondimento sul sui primi casi di codogno non so se ti ricordi anche tu ma credo di cioè ecco anche perché poi peraltro avevamo raccontato anche del retroscena delle cose che non erano state ancora sottolineate dette diciamo che era un periodo un po ovattato quello no perché chiaramente la paura del coronavirus era appena arrivata e perché mi è venuto da sorridere perché oggi possiamo parlare con te di questa nuova variazione del del covid che è stata riscontrata in inghilterra ma non solo anche in danimarca in altri paesi e peraltro anche in italia perché pare ci sia un caso forse altri casi sospetti ma comunque insomma si parla di una mutazione del virus che e così almeno ci buttiamo anche sul lato economico sta spaventando molto le borse intanto ti chiedo un commento su questo sulla novità e anche qui lo dico in modo amaro tanto per non farci mancare niente in questa parte finale del 2020 beh allora hai riassunto bene come è accaduto cioè del covid si è cominciato a parlare all'inizio dell'anno ma era una cosa limitata alla cina le borse nonostante che in cina la notizia diventava sempre insomma più non dico drammatica ma quasi insomma per cui si richiedeva e si è fatto il primo lockdown da lì abbiamo imparato il termine lockdown per wuhan e tutta la regione del cinese appunto però le borse non non ne risentivano anzi continuavano ad aumentare quindi i primi due mesi dell'anno o meglio il primo mese e mezzo è stato un mese di rialzo delle borse nonostante che in cina ci fosse questo virus e che questo virus aveva imposto appunto delle restrizioni fortissime in una regione che ricordiamo è una delle regioni più ricche del della cina e quindi non stiamo parlando di zone agricole poi improvvisamente il caso di codonio e questa diciamo questo questo virus è diventato una pandemia nel senso è diventato una cosa globale non si è limitata alla cina ed improvvisamente 21 di febbraio le borse crollano quindi a le borse reagiscono diciamo quando il virus arriva in italia praticamente cioè quando viene viene probabilmente era arrivato prima è chiariamo però insomma quando viene così diagnosticato ad un 33 n di codonio se c'è quel crollo che dura un mese esatto dopo un mese la ripresa ma la ripresa molto forte quindi delle borse che sono salite a livelli superiori rispetto al ai dati che erano già estremamente elevati di prima appunto del cobit quindi questa è stata il crollo è stato diciamo abbastanza normale perché era accaduta una cosa assolutamente straordinaria straordinario invece è stato il rimbalzo che si è avuto se poi noi guardiamo alcuni indici in particolare il nasdaq e sì certo c'erano anche delle motivazioni ma se noi guardiamo ancora oggi quel grafico del nasdaq quel crollo che noi appunto chiamiamo crollo del del mese di febbraio marzo beh nella realtà è quasi una piccola discesa rispetto alla risalita che si è avuta successivamente quindi questo è un po il il patto covid borse poi oggi abbiamo questa novità stiamo a vedere se è una cosa infatti perché peraltro così almeno benissimo giaccaro ci buttiamo anche su quello che sta accadendo dopo questa notizia no perché la nostro titolo lo vedete recita perché le borse salgono nonostante notizie negative e ovviamente sembra un po una presa in giro per quello che sta succedendo oggi però chiaramente noi stiamo facendo un ragionamento complessivo come già anticipava giancarlo marcotti come mai invece bisognerà vedere cosa succederà perché poi insomma all'avvio è debole per l'europa anzi molto negativo poi bisognerà capire come l'america invece reagirà quindi con il faro diciamo così di wall street come reagirà a queste notizie che si sono inserite quindi di conseguenza come recepiranno i movimenti americani anche le borse europee però giancarlo potrebbe essere appunto la gocciolina che fa traboccare il vaso perché tu sei intervenuto peraltro anche in altre interviste rispetto alla domanda che oggi abbiamo voluto mettere in evidenza anche noi no e hai detto non hai nascosto il fatto che ti aspettavi prima o poi no che qualcosa potesse succedere può essere questo il qualcosa che tu avevi comunque messo in conto può essere questo allora dobbiamo ovviamente vista la giornata di oggi fare un insomma una cosa che che in teoria non si dovrebbe mai fare cioè cancelliamo la giornata di oggi fermiamoci a venerdì sera nei giorni nella settimana scorsa diciamo in particolare dagli stati uniti non dal punto di vista economico non sono arrivate buone notizie e quindi io parlo in questo in questo momento non tanto di virus di economia in generale non sono arrivate buone notizie eppure le borse continuavano a salire io dico sempre delle cifre per capisco che magari la maggior parte delle persone non non seguono magari i mercati finanziari adesso su sulle fonti tv sì ovviamente ma insomma anche quando parla nei miei video non è che la maggior parte delle persone seguono mercati finanziari però per chi li segue diciamo alcuni alcuni numeri sono importanti cioè superare i 30 mila punti 30.300 punti per il dow jones è un numero però è così la questione di avvicinarsi i 13 mila punti il nasdaq cioè sono numeri veramente stratosferici no ma allora la performance che lo stesso tu giustamente stavi portando gli esempi americani però anche le performance che ha riportato il nostro indice l'indice italiano no giancarlo con tutto quello che sappiamo essere successo sull'economia reale di casa nostra ma soprattutto a livello di economia reale sappiamo che l'italia insomma rispetto ad altri paesi è più penalizzata no quindi insomma ci aggiungerei anche questo ma credo che ci sareste arrivato sì no no certamente allora per essere precisi dall'inizio dell'anno il nostro il nostro indice perde a ieri sera diciamo prima di stamattina perdeva il 6 e mezzo per cento ma il 6 e mezzo per cento in una in un anno come il 2020 che insomma quello che è accaduto era una cosa poco sottolineerei il più 2 80 per cento del dax cioè la germania fino a questa mattina prima dell'apertura delle borse di oggi la germania nell'anno 2020 con i lock down con tutto quello che c'è stato saliva la borsa tedesca saliva la svizzera è praticamente sulla parità quella che perde un po di più è londra che perdeva intorno al 13 per cento e quella che perde di più come come borsa europea è l'austria probabilmente perché buona parte del pil austriaco viene anche fatto dal turismo perché sappiamo che insomma è una è uno stato che vive molto di turismo per le sue montagne e anche le sue città viene è una delle città più visitate al mondo quindi e quindi magari quello ha inciso ma ripeto se noi guardiamo invece in in asia e le borse la borsa coreana sale la borsa cinese non ne parliamo quindi se noi ricorda dovessimo ricordare il 2020 per quanto riguarda le borse ripeto a ieri sera lasciamo stare solo oggi no è un anno buono certo sì 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 infatti infatti per quello no che ho sottolineato insomma il fatto di aver assistito a uno scenario come dire così adesso io non voglio usare parole troppo eccessive però così negativo come quello che si è verificato quest'anno aver visto invece risultati borsistici di questo genere ha lasciato un po un po perplessi ecco e dicevamo però Giancarlo quindi potrebbe essere questa notizia c'è l'ulteriore aggravamento diciamo così della situazione pandemica e sanitaria a invece rigirare quello che bolle in pentola allora manuela prima di rispondere alla tua domanda una brevissima premessa cioè prima dovremmo dire eventualmente perché in uno in un anno così insomma particolare così singolare che dovrebbe aver visto appunto crollare tutte le borse perché le borse non sono crollate principalmente per due motivi perché il motivo principale è che gli investimenti nel reddito fisso ed in particolare sui titoli di stato è praticamente un mercato che non esiste più prima era il mercato principale voglio dire oltre a quello valutario insomma e invece praticamente non esiste più nel senso che viene monopolizzato dalle banche centrali cioè le banche centrali hanno fatto incetta di titoli dello stato per cui molti investitori non hanno proprio trovato conveniente acquistare titoli dello stato perché hanno nella vostra grande maggioranza rendimenti negativi questo ha quindi portato un eccessivo a gli investitori ad accettare un eccessivo rischio il primo caso il secondo caso è che noi è vero che l'economia non va bene però le borse che cosa misurano misurano il valore di grandi grandissime aziende normalmente aziende multinazionali mentre a pesare di più diciamo questa crisi è soprattutto non lo so l'artigianato il piccolo commercio cioè è chiaro che il ristoratore non è quotato in borsa voglio dire e quindi le sue difficoltà mentre è quotato in borsa a amazon o google o facebook no? quindi anche questo aspetto qua può avere il vuto al suo però detto questo detto questo quando è troppo è troppo nel senso che d'accordo che ci sono questi motivi ma se noi continuiamo a immettere liquidità nel sistema e a questa liquidità non corrisponde valore reale creiamo inflazione se non vediamo l'inflazione intesa come aumento dei prezzi dei generi alimentari dei generi di consumo è chiaro che l'inflazione la vediamo da un'altra parte e io dove la vedevo la vedevo nei mercati finanziari che li vedevo inflazionati quindi appena sarebbe arrivata una notizia effettivamente negativa ci poteva essere uno storno significativo oggi è arrivata quella notizia che vabbè dobbiamo ancora valutarla però al momento il mercato la valuta come una notizia estremamente negativa questa mutazione del virus e quindi stiamo a vedere cosa succede però insomma se il buongiorno si vede dal mattino esatto 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 tu credi che ci sia il rischio che è stato il rischio iniziale di questa pandemia covid che davvero l'emergenza sanitaria l'emergenza economica che non dico è che una deve essere più importante dell'altra ma devono andare insomma insieme proprio per essere risolte insieme invece appunto ci sia il rischio che si distinguono ancora come dire presi dal panico di queste nuove notizie da un punto di vista sanitario dimentichiamo che appunto l'economia reale già ampiamente penalizzata ci sono delle stime incredibili in negativo naturalmente e quindi questo possa portare a eventuali altri sfaceli direi di sì nel senso che più di quello che hanno fatto i governi e le banche centrali è difficile pensare a qualche cosa di più perché tutte le banche centrali e sono intervenute dal partire dalla fede che ha promesso altri aiuti e così la lagarda che ha portato altri 500 miliardi cioè vedete ci sono delle notizie che compaiono sui giornali che a leggerle potrebbero sembrare positive invece devono risultare come un campanello d'allarme qualche giorno fa ho letto la notizia c'è il regalino di natale il regalo di natale della lagarda altri 500 miliardi queste notizie qua a me spiace parlare male dei giornali ma insomma non è la maniera di dare una notizia quei 500 miliardi non è un regalo di natale non è che noi diventiamo più ricchi ecco ci hanno regalato dei soldi i soldi che emette la lagarda non sono regali e quindi vuol dire che la situazione è negativa perché se fosse una situazione positiva non aumentava di altri 500 miliardi il suo intervento mentre se io scrivo su un punto un titolo di giornale che è il regalo di natale della lagarda faccio un brutto giornalismo insomma un cattivo giornalismo perché faccio credere alle persone ah guarda le cose vanno male però lei ci ha regalato 500 miliardi non ci regalano niente le banche centrali purtroppo vediamo se riesco a tradurre bene se un po ti conosco Giancarlo secondo me sì ma mi dirai se ti ho compreso bene o no allora detto molto banalmente attenzione tanto abbiamo già avuto modo attraverso la voce di Giancarlo Marcotti di dire cose in modo più tecnico però quella domanda che abbiamo visto prima perché le borse continuano a salire nonostante le notizie negative è perché comunque si sa che c'è sempre il presunto solo presunto salvatore della patria e quindi come dire ma sì anche se arriva la notizia negativa perché io investitore non devo continuare a investire tanto ci sarà chi mi aiuta è così sì cioè esatto c'è sempre la banca centrale che alla fine mette nuovi soldi e che quindi fa crescere le borse o comunque non le fa crollare cioè c'è un salvatore ecco adesso siamo a Natale il salvatore ci può essere il termine c'è Luca che chiede ma quale sarebbe l'alternativa cioè credo che intenda dire è ovvio che poi devono intervenire le banche centrali l'Europa eccetera pur a fronte di prestiti e quindi non di regali però l'alternativa quale sarebbe in questo contesto Giancarlo? ho capito io purtroppo lo devo dire cioè l'alternativa è cercare di far andare avanti l'economia nonostante un virus che abbiamo cioè io ho anche difficoltà a esprimermi sulla questione del virus nel senso che diciamo le cose obiettive questo virus non è l'ebola perché se fosse ebola lo capirei non è ebola cerchiamo di salvare l'economia di tornare a lavorare di tornare perché se lasciamo a casa le persone e poi gli diamo i ristori sì sembra che le cose possono andare avanti ma non è così cioè se io non lavoro non produco la ricchezza del mondo deriva dalla produzione dal lavoro non deriva dal fatto che una banca centrale emette soldi no 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 ma è vero il problema è che è tutta una situazione accartocciata perché è quello che dice il timore che ho espresso anche io prima perché se noi pensiamo solo all'emergenza sanitaria che ci mancherebbe altro in pole position la lasciamo sempre e chiudiamo quello che è successo chiudiamo attività perché il contagio avviene in modo rapido e quindi dobbiamo evitare che le persone si incontrino il lavoro viene penalizzato subito no quindi diciamo che in estrema razio c'è l'intervento che poi non è più un estrema razio ormai l'intervento di altri agenti che vanno a parare i colpi ma perché ripeto la situazione accartocciata Giancarlo per evitare questo bisognerebbe come dici tu far sì che il lavoro continuasse nonostante tutto e però se non riusciamo a parare i colpi sull'emergenza sanitaria temo che questo non sarà percorribile come percorso sì posso essere d'accordo insomma comunque bisognerebbe trovare diciamo una via intermedia ecco bisognerebbe sì bisognerebbe far combaciare sì perché poi anche i messaggi che arrivano proprio dicono questo ripeto io mi sono sentita un po di derubricare la questione così cioè che è una situazione che ormai sia un po accartocciata scusate se ripeto questo termine è l'unico che mi viene in mente che può rendere l'idea e quindi sì la soluzione è quella di Giancarlo è corretta ma insomma siamo un po in un circolo vizioso ti leggo un'altra domanda e poi ti saluto Giancarlo Francesco ma se il PIL mondiale si stima scenda del 5% che poi non è una domanda è una è una considerazione posta come domanda del 5 per cento e le iniezioni di banche centrali si aggirano intorno all'8 per cento del PIL mondiale cosa possono fare le borse salire sì infatti però salire in maniera inflazionata il termine inflated in inglese significa gonfiare ecco quello cioè sono salite perché sono state gonfiate poi le eccezioni ci possono essere adesso poi le eccezioni nel senso che se io se io dico che amazon è cresciuta dico è ma i motivi ci sono se chiudiamo i negozi e teniamo aperto amazon è chiaro che le persone compreranno di più su amazon e questo è un però ecco contemporaneamente arriva la notizia che il black friday di quest'anno è stato inferiore a quello dell'anno scorso perché cominciano le persone ad avere meno reddito rispetto a prima quindi insomma questo è un po' è un po' l'aspetto da vedere le borse aumentano sono aumentate la mia teoria la mia impressione il mio la mia opinione e che siano aumentate in maniera eccessiva determinata appunto dai fattori che dicevo prima e che quindi bisognerà attendersi invece un ridimensionamento insomma tanto per dire se il il dow jones tornasse a 27 mila cioè perdesse il 10 per cento rispetto a quello di oggi penso non sarebbe un dramma assoluto no 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 chiaro no sei stato chiarissimo insomma speriamo che ero però non arrivino altre sorprese io già non sono amante delle sorprese in generale figuriamoci in questo momento è meglio meglio avere una strada un po più certa davanti le sorprese le teniamo per momenti più tranquilli va non so se sei d'accordo giancarlo adesso devo devo salutarti quindi ho drammatizzato però sorprese speriamo più avanti non ora permettimi solo naturalmente di salutare gli ascoltatori di fargli gli auguri nonostante tutto sia un buon natale io ho voluto mettere alle mie spalle un piccolo alberello quest'anno non ho fatto un albero grande in casa ne ha fatto uno mignon proprio per per la situazione un po particolare mi sono adattato a questo natale 2020 che purtroppo è uno dei natali più brutti che abbiamo passato negli ultimi anni però insomma nonostante tutto tanti auguri a tutti gli ascoltatori buon natale buone feste d'accordo certo giancarlo assolutamente mi allineo a te e naturalmente anche a te vanno i nostri migliori auguri di natale sicuramente anche quelli dei nostri telespettatori e ci risentiamo se ci sei la settimana prossima comunque assolutamente per chiudere l'anno 2020 intanto grazie ancora auguri a giancarlo marcotti e che dire ci salutiamo qui per la prima parte del live di questa giornata adesso i nostri approfondimenti e poi torniamo naturalmente in diretta sui mercati a partire dalle 14 30 restate con noi seguiteci su le fonti punto tv e anche su tutti i nostri social grazie davvero per aver partecipato stamattina siete stati stupendi a dopo